La neve potrebbe tornare a far capolino ad Arezzo anche a basse quote. La sala operativa della regione ha infatti emesso un avviso di criticità con codice arancione, giallo per neve e ghiaccio dalla mezzanotte di oggi sino alla mezzanotte di martedì 22 gennaio. Un'allerta che interessa anche tutta la provincia di Arezzo. Il comune si è già detto pronta a far fronte a questa nuova ondata di maltempo dopo che in occasione della grande gelata dello scorso 11 gennaio si erano verificati numerosi disagi. Domani, fra domani e dopodomani è prevista una perturbazione che potrebbe portare anche neve e sicuramente basse temperature. Ovviamente in questo caso siamo informati, siamo assolutamente allertati, siamo pronti ad affrontare l'ondata di gelo e di maltempo e speriamo che non ne arrivi troppa neve perché comunque sarebbe in ogni caso un problema. Ma ricordo che abbiamo 350 km di strade quindi non è semplice riuscire ad andare a intervenire su tutte contemporaneamente. La raccomandazione ovviamente se dovesse arrivare veramente una forte ondata di maltempo e tanta neve di stare attenti se uno deve obbligatoriamente uscire e se uno non deve obbligatoriamente uscire magari stare anche a caso, utilizzare i mezzi pubblici, insomma cercare di utilizzare il meno possibile le strade. Ripetisco che perlomeno sulle strade principali l'intervento sarà garantito, sarà celere e sarà puntuale quindi speriamo che non ci siano disservizi troppo importanti. Con l'arta di che tipo quali saranno le misure messe in campo? Noi abbiamo ormai da qualche anno due squadre della manutenzione e cinque ditte esterne, più di dieci interventi contemporaneamente riusciamo a portarli a termine quindi riusciamo a dare un buon servizio se allertati preventivamente. Grazie 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 Grazie